Cambio di programma per le elezioni amministrative di Laterina Pergine si terranno quest'anno il 14 e il 15 maggio. A stabilirlo il prefetto di Arezzo, Maddalena Di Luca, che ha firmato il decreto che allunga l'elenco dei municipi interessati in provincia dal rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Saranno dunque tre i comuni dell'Aretino che andranno al voto. Anche i residenti del comune, unico nato nel 2018, si recheranno alle urne assieme ai Gianotti Capolone e Caprese Michelangelo. Meno di due settimane fa era stata la stessa sindaca, Simona Neri, ad annunciare lo slittamento della tornata elettorale al 2024 perché non si erano compiuti cinque anni canonici di mandato. La consigliatura infatti era iniziata il 29 luglio in ritardo rispetto alle amministrative del 10 giugno di quel 2018 a causa della morte prematura alla vigilia del voto del candidato sindaco della lista a sinistra per Laterina Pergine Valdarno, Giovanni Lari. La legge 182 del 1991 indica che le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale si tengono nei tempi prestabiliti se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, se scade invece nel secondo, vengono programmate l'anno successivo. Non è ancora dato sapere la motivazione di quest'ultima decisione, ma intanto la macchina elettorale dovrà rimettersi in moto anche a Laterina Pergine. Il decreto firmato dal prefetto Maddalena De Luca annuncia che domenica 14 maggio si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi si aprirà lo spoglio e la conta dei voti.